Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e in questo breve video volevo informarvi di una gara che ho creato per testare la velocità massima di tutti i veicoli di tutte le categorie. Allora per fare ciò dovete aggiungere questa gara e quando la andate ad avviare dovete levare aiuto giocatore in coda e scia ragazzi perché altrimenti non potrete fare il tutto per capirci. Allora questa gara come si svolge ragazzi? Questa è una gara di 10 km, in questi 10 km noi avremo la possibilità di tirare al massimo le nostre auto e di confrontare vari tipi di auto. Allora la gara è settata per 8 giocatori ma è meglio non farla in 8 giocatori ma in 4 o meglio testare 4 auto alla volta. Ho messo una griglia da 8 giocatori perché non me la faceva mettere normalmente per estesa e quindi i veicoli non sarebbero partiti tutti quanti sulla stessa linea di partenza. Invece impostandola per 8 giocatori e impostando una griglia larga 4 auto possono partire allo stesso momento sulla griglia di partenza. Perché ho creato questa gara? Perché molte persone fanno i test di velocità all'aeroporto o ad altri posti che secondo me non sono adatti per fare test di velocità e ho voluto creare una gara pari a quelle vere, una gara di 10 km, quindi sulla lunghezza, come si fa nei test drive veri insomma, per testare le auto ragazzi. Con questa gara ho testato la Tezzerac, ho testato la Paria, quindi ho testato svariate auto. La Tezzerac è una delle auto super più veloci del gioco ma qui si sta parlando solamente di rettilineo, poi c'è Valermani con la capa e guida, quindi le piste non sono solamente rettilinei. Per quanto riguarda le sportive invece la Paria, una al momento l'auto più veloce delle sportive. Poi vabbè abbiamo fatto varie prove, però questo vedetevelo voi ragazzi, io vi lascerò qui in descrizione il link della gara, spero che la scarichiate. Spero che sia di vostro gradimento e che vi sia utile in tutte le vostre prove di test drive. Detto questo un saluto a tutti, al prossimo video. Grazie a tutti.